Grazie a tutti per essere con noi e la prima sensazione della tua nuova challenge perché ha cambiato tutto completamente, non è? Beh, è un cambiamento ma è tornato a quello che ho cresciuto, ho iniziato la mia carriera in superbike e in raccogliere 4 stroki in quella categoria, quindi è molto diverso, molto nuova challenge, molto da imparare ma, ovviamente, sono felice per questa opportunità e ho provato a fare la maggior parte. Quindi, diciamo qualcosa di più o meno, la differenza del peso della bicicletta, anche le tigre, magari l'elettronica, nel futuro alcuni diversi strumenti. Sì, sicuramente, infatti l'occasione non era molto bello a noi in Spagna, quindi non avevamo riusciuto un po' molto, soprattutto il primo giorno, ma il secondo giorno abbiamo lavorato in questo modo e in questo caso, ovviamente, come you say, è tutto differente, ma anche è comunque un'azienda, quindi non vuole rispondere a quel che è diverso, cosa è utile, cosa è diverso, cosa è diverso, cosa è diverso, ma la riusciuta, ma la riusciuta ma forse, il frane è un po' più, più flexi, più movimento, che è divertente in alcuni 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 non alcuni 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 almeno del modo, la power, ovviamente, non è come MotoGP, I wish that's the area we got to work to improve with this bike but the handling was quite good the brakes were different but the stopping was okay and the electronics are different than what I've been using the last years in open with open Honda but different in a good way these are more back to like what I used in Ducati more advanced have more options to work around the track so that is a good thing but let's let's do another test and see where we're at. So now do you have a time for a small vacancy holiday or not? Nick Adrian, during the winter where we can find you? Well at the moment is no vacation as you said was Valencia straight pretty much to 10k to the workshop for meetings and start meeting the team meet the bike and then we were in Spain testing and here this these days in Milan for some more meetings and shows and then back to Spain next week for three days on testing but hopefully after that some weeks in December with my family for Christmas and with Santa Claus. and then the job starts again so a few weeks rest but keep the training going and try to be prepared because now my season will start definitely a bit earlier than other years we start in February so you know it's not the right moment to rest I can rest when I retire. So one question about this event Milan is maybe the best show for motorbike for passion tell me something about this. Well I've been here before but it's been a good amount of years because it seems like the last few years it's been while the season is still going on but the event to me has grown a lot since the last time I was here and the atmosphere is incredible everybody really relaxed I mean it's still Friday morning but the place is almost full so tomorrow is going to be a madhouse but I'm happy to be here. Hello everyone I'm Nicky Hayden here at ECMA and look forward to seeing you guys and have fun ciao.